Ciao a tutti e bentrovati nel mio canale Fantasticamente Inge, dove oggi proseguiremo l'escursus nel capitolo dei form html. La volta scorsa abbiamo fatto, diciamo, una sorta di introduzione. Oggi invece ci addentreremo più nei dettagli disquisendo sulla maggior parte, non tutti, degli attributi dei moduli. Mi sentirete spesso usare il termine modulo al posto di form. È solamente la versione italiana del vocabolo, quindi lo utilizzo in maniera interscambiabile praticamente. Ok, cominciamo dall'attributo action del form. Questo attributo definisce l'azione da eseguire al momento dell'invio del modulo. Come già vi accennavo la volta scorsa, quando l'utente fa clic sul pulsante di invio del modulo, solitamente i dati vengono inviati a un file sul server. Per esempio, in questo codice che vediamo in questa slide, i dati del modulo vengono inviati a action underscore page punto php, che conterrà uno script lato server che gestisce i dati che arrivano. Ripeto, non è argomento di questo corso capire come lo fa. Adesso ci basta sapere cosa succede a clic sul pulsante invia. Benissimo. Andiamo avanti e parliamo dell'attributo target. Questo attributo specifica dove visualizzare la risposta ricevuta dopo l'invio del modulo. E può avere uno dei seguenti valori. Con blank la risposta verrà visualizzata in una nuova finestra o scheda. Con underscore self la risposta viene visualizzata nella finestra corrente. Con underscore parent la risposta viene visualizzata nel frame padre. Con underscore top la risposta viene visualizzata in tutto il corpo della finestra. E invece con frame name la risposta viene visualizzato in un iframe denominato. Quindi ci sarà lì il nome del frame. Vabbè, vi dico subito che al massimo utilizzerete underscore blank. Diciamo che gli altri valori difficilmente li userete. Comunque quello predefinito, se non specificate nulla, è self. Quindi di default la risposta si aprirà nella finestra corrente. Benissimo. Passiamo ora all'attributo method che specifica il metodo HTTP da utilizzare durante l'invio dei dati del modulo. I dati del modulo possono essere inviati o come variabili URL, cioè con metodo GET, oppure come transazione POST, quindi con metodo POST. Il metodo predefinito è GET. Come vedremo tra qualche minuto quando faremo la parte pratica, la differenza sostanziale è che il metodo GET aggiunge i dati del modulo sotto forma di coppia nome-valore direttamente nell'URL, quindi visibili in chiaro nella barra degli indirizzi. E poi che con questo metodo da lunghezza di un URL è limitato a 2048 caratteri. Usando il metodo POST invece non si hanno limiti di dimensioni, quindi può essere utilizzato per inviare grandi quantità di dati, ma soprattutto i nostri dati non verranno mai visualizzati nell'URL. Quindi il mio suggerimento, qualora i dati del modulo contengano informazioni sensibili o personali, è quello di utilizzare sempre il metodo POST. Benissimo, passiamo ora all'attributo AUTOCOMPLATE che specifica se un modulo deve avere il completamento automatico attivato oppure disattivato, quindi su ON oppure su OFF. Se il completamento automatico è attivo il browser completa automaticamente i valori in base ai valori immessi in precedenza dall'utente, altrimenti non lo farà. Benissimo, andiamo avanti e vediamo l'ultimo attributo di oggi, cioè il NO VALIDATE. Questo attributo, quando presente, specifica che i dati immessi nel modulo non debbano essere convalidati al momento dell'invio. che vuol dire questa cosa? Che se inserirò delle lettere in un campo che accetta solo numeri, oppure che ne so, scriverò dei numeri dove dovrei mettere un indirizzo email, con non VALIDATE potrei farlo, perché appunto al momento dell'invio i dati non verrebbero in alcun modo validati. Al solito è più facile a farsi che a dirsi, poi magari lo vedremo meglio quando parleremo di tipi particolari di input. A un momento sappiate solo che è possibile aggiungere quest'altro attributo al form. Ok, diciamo che questa è tutta la parte teorica. Se usciamo dalla presentazione, possiamo tranquillamente passare già alla parte pratica. Dunque, questa è la pagina forms.html che abbiamo creato la volta scorsa e andiamo un pochino a ripulirla, giusto per lasciare le cose che ci servono. Quindi prendiamo questo pulsante e lo mettiamo qui sotto cognome. Perfetto. Tutto il resto per il momento non serve. Allora, qui scriviamo per esempio HTML forms. E così è tutto più pulito. Salviamo e aggiorniamo la pagina. Perfetto. Abbiamo lasciato solamente all'interno del form due input testuali con etichette nome e cognome e poi un pulsante per inviare. Se non sapete cosa è stato fatto, vi invito a vedere o rivedere il tutorial precedente che è trovato ovviamente tra quelli consigliati. Benissimo. Come avevamo accennato alla fine della scorsa lezione, facendo clic su questo pulsante, i dati vengono inviati a un file sul server. Quindi, per giusta regola, dentro il tag di apertura del form, dovrei andare ad inserire l'attributo action. L'attributo action, come abbiamo detto poc'anzi, serve per specificare l'azione da eseguire. Vabbè, io in questo momento lo inserisco solamente come segnaposto, però lo lasciamo vuoto. E quindi, aggiorniamo la pagina. Non succede nulla di visibile per il momento. Ok, vediamo qualcosa di tangibile. Abbiamo detto che potrei specificare, ad esempio, un target diverso dal predefinito. Quindi, se, ad esempio, dentro il tag di apertura vado ad aggiungere target uguale, tra virgolette, underscore blank, che cosa mi aspetto? Mi aspetto che al clic su invia mi si apra una nuova scheda. Quindi, aggiorniamo la pagina, ricarichiamo la pagina. Magari andiamo ad immettere dei dati, quindi inserisco il mio nome e il mio cognome, Francesca Martorana, e faccio un clic su invia. Come vedete, mi si apre una nuova finestra. Vi faccio anche notare che qui nella barra degli indirizzi troverò i dati che ho immesso. Ecco qui, nome uguale Francesca e poi, dopo la e commerciale, ho cognome uguale Martorana. Questo perché il metodo di default è get. Ora, siccome si tratta di dati personali che voglio preservare, cosa mi tocca fare? Mi tocca aggiungere un altro attributo al form. Se vi ricordate, l'attributo da aggiungere è l'attributo inerente al metodo. Quindi, se io imposto come metodo post, che cosa succede? Succede che non dovrei vedere quello che ho visto prima. Quindi, ricarico la pagina, ricompilo il mio form con nome e cognome, Francesca Martorana, clicco su invia, mi si apre effettivamente la risposta in una nuova pagina, ma stavolta non avrò le mie risposte spiattellate qui nella barra degli indirizzi. Questo perché? Perché abbiamo utilizzato come metodo post. Bene, io direi che per oggi possa bastare. Vi consiglio sempre di esercitarvi o autonomamente, oppure attraverso il vademecum arricchito di esercizi che ho preparato a corredo di questo corso e che potete richiedere scrivendomi attraverso il modulo contatti del mio sito che trovate linkato in descrizione. Prima di salutarvi vi invito a lasciare un like o un commento al video, di condividerlo coi vostri amici o colleghi di lavoro che sicuramente vi ringrazieranno e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi. Ciao! Grazie!